Ciao ragazzi, siamo tornati per fare un bel allenamento insieme utilizzando un peso, non serve due pesi perché voglio essere sicuro che abbiamo un saldo preso, presa, una salda presa sul tapis roulant, cominciamo sempre con un riscaldamento un riscaldamento almeno di un minuto, due minuti possiamo anche fare questo allenamento magari dopo che abbiamo fatto la pedane vibrante che sarebbe un ottimo riscaldamento o dopo il trampolino o dopo anche un fluid, chissà, ok? però la cosa importante è il lavoro aerobico il tapis roulant, in particolare il tapis roulant magnetico questo che io produco per GM24 è veramente performante perché performante? perché i due volani e il tappito e la resistenza e le tre inclinazioni fa sì che entro pochissimi minuti tu stai in una zona aerobico e tu stai bruciando calorie come se stessi correndo ma non stai correndo io purtroppo, l'ho detto da anni, non corro più perché ho una tendinite sul ginocchio destro proprio sulla zampa d'oca e si infiamma se mi metto a correre allora come faccio il mio lavoro aerobico? come posso stare qua a chiorare con voi senza il fiattone? un po' di fiattone ciò, è normale ma non sono con la lingua penseloni perché il trampolino è questo attrezzo insieme, sono una bomba sono una bomba e mi permettono di mantenere la mia capacità aerobica, ok? anche solo camminando ok, prendiamo il peso vicino al petto ok, la cosa importante è di non perdere il contatto con almeno una delle due braccia con il tappeto, ok? così ti senti stabile continui a camminare alzo le braccia e facciamo uno, due scendo due e scendo tre scendo, sto usando due chili e scendo quattro cinque sei sette otto and relax allora il tappeto già ti alza il battito cardiaco se io aumento anche il cardio cardiovascolare con un peso perché quando noi alziamo la mano sopra la spalla o sopra il cuore si aumenta anche la pressione ok? perché il sangue deve spingere verso alto non esagerare questo è molto 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 importante perché se cominci a non ragionare o non poter parlare o girare la mente di testa o comunque sudore freddo potrebbe essere segnale che questo deve essere troppo cardiovascolare così mi raccomando la prima cosa è sempre la sicurezza prima di qualsiasi altra cosa ok? lavoro aerobico di solito si o diciamo la capacità aerobica comincia a sviluppare tra otto dodici settimane così tu fai piano senza giudizi senza diciamo esagerare e piano piano vedrai che sei sempre più forte cambiamo il braccio uno due scendo due non alzo la spalla alzo solo il braccio uno due scendo due uno due scendo quattro ancora tre ancora due ancora uno and relax cambio braccio continuo a camminare busto leggermente in avanti stendo due piego due stendo perché lo faccio in due? lo faccio così non perdiamo il ritmo della camminata e non perdiamo l'equilibrio uno due guardami la spalla due prova di stendere il braccio completamente ok braccio completamente stesa per lavorare su muscoli dell'applauso grandi sorrisi che stiamo facendo lavoro incredibile per noi cambio braccio spengono avanti gomito stretto cinque sei sette stendo due piego due stendo respiro 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 ancora quattro tre due uno e cambiamo facciamo le prime due esercizi destra e sinistra destra e sinistra partendo dalla spinta in alto cinque sei sette uno due scendo due tre quattro cambio il braccio otto sette sei cinque quattro tre due cambia il braccio senti come si diventa veramente allenante respira e quattro ancora quattro ancora tre ancora due cambio il braccio vado e otto sette sei cinque quattro tre due uno cambio il braccio cambiamo esercizio molto stretto vicino al corpo perché c'è il manubrio ok and altezza spalla bicipide uno due scendo due uno due ancora uno due scendo due sorridi ancora uno due scendo vado ancora pronti per cambiare and uno due scendo gomiti stretti uno due scendo vado ancora uno due scendo vado ottima volta uno due cambio il braccio e spinto in alto uno due scendo due tre quattro cinque sei sette cambio uno due tre poi dobbiamo andare a fare i tricipidi ahah eh cinque sei sette cambio tricipide uno due chiudo due tre quattro stendi bene il braccio cinque ancora sei sette cambio braccio vado e uno arrivano poi i bicipidi ci siamo vado quattro tre due due uno bicipide uno scendo due vai vai ancora ancora pronti per cambiare il braccio vado e l'altro lato bicipide su come gli stretti due respira spalle rilassate tre ancora cinque sei sette occhio otto adesso facciamo tutto solo da una parte tutti e tre gli esercizi tre poi dall'altra parte ancora cinque non cambio braccio non cambio braccio sette lo chiudo tricipide uno due così la stanchiamo bene il braccio tre quattro cinque sei sette bicipide andiamo uno spalle bassa due tre quattro cinque sei sette cambio braccio andiamo in su uno due tre quattro ancora cinque sei sette otto precipide otto e chiudo sette sei ovviamente i pesi possono cambiare man mano che tu diventi più forte da due chili possiamo cambiare tre è più pesante ognuno deve decidere per sé e bicipide su scendo due tre quattro cinque sei sette and stop ok prendiamo una bella camminata respira lascia le spalle ricordate che giorno dopo giorno cresciamo insieme per diventare più forti più allenati con nuovi allenamenti sia qui su nowjocupi.com che su miei social divertitevi perché l'allenamento è vita facci dalla Jill